Questa è un'edizione speciale di News 12. La città di New York è attaccata da nemici non identificati. Passiamo la linea Claire Strauss. Jim, quella situazione è incontrollabile! Non ho mai visto nulla del genere! Le strade sono piene di detriti! Le persone stanno cercando di nascondersi ovunque! Avete visto? Dov'è Capitano America? Oh, è terribile! Gli assalitori sembrano arrivare da nulla! C'è giunta notizia non ancora confermata che il punitore è disperso! Jim sta chiamando tutto! Quello è un... Un attimo! Aspettate un minuto! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio!